Un incontro al Ministero della Salute, inerente all'ospedale di Eboli, ad annunciarlo il consigliere comunale di Forza Italia, Giuseppe Norma. Tra l'inerzia dell'amministrazione che ci governa e le scelte scelerate sulla sanità della giunta regionale, ha detto Norma, il partito di Forza Italia, nella figura dell'attento onorevole Ferrante, ha organizzato un incontro presso il Ministero della Salute, per rendere partecipi il governo di tutte le elementele e le possibili soluzioni della dieta ai lavori e dei cittadini della Piana del Sele. Non c'è t'acqua sul fuoco Norma e punto il dito contro l'amministrazione comunale ebolitana e il governatore della campagna. In più occasioni, dichiara ancora Norma, avevo manifestato alla nostra amministrazione in quali fossero le attività di intraprendere le scelte ed attuare per provare a salvare il nostro ospedale. Questa amministrazione, che fino ad ora si è dimostrata sorda ed è stata soltanto abbindolata dai suoi interlocutori, spero possa riuscire nelle stanze romane, accompagnata dal gruppo di Forza Italia di Eboli, a difendere la città e le città a noi limitrofe. L'affondo al Presidente De Luca poi non manca. Il Presidente De Luca pagherà care le scelte poco responsabili, attuate nel solo interesse politico e personale, ribadisce Norma. Sarà ancora più chiaro da oggi che vi è sul nostro territorio e su tutto il territorio provinciale una forza politica che lavorerà nell'unico interesse del proseguo. Intanto la battaglia a difesa dell'ospedale di Eboli andrà avanti.